buonasera nel pomeriggio di oggi si è tenuto un incontro tra il centro operativo comunale e i medici di benicina generale e i pediatri di v mercate ci sono ancora molte richieste d'aiuto da parte dei nostri medici i dispositivi di protezione specifici di cui hanno bisogno scarseggiano non stiamo parlando delle mascherine che si iniziano a trovare in vendita nelle farmacie e in alcuni supermercati e che al momento non rappresentano la principale difficoltà stiamo parlando di visiere maschere di protezione camici idro repellenti sovrascarpe come avps e comune stiamo attivandoci per procurare ai nostri medici questi importanti dispositivi assolutamente necessari e di cui sono sprovvisti vi ricordo che potete aiutarci con le vostre offerte anche piccole con un versamento sul conto corrente di avps specificando la destinazione per i medici di base assieme ai dispositivi abbiamo messo a disposizione dei medici degli apparecchi per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue i saturimetri ne ho parlato nelle sere passate bene mostro uno sono apparecchi molto semplici che si indossano sopra il dito e mostrano in modo leggibile i parametri utili per valutare la situazione da parte del medico anche semplicemente comunicando i valori per telefono ecco è molto semplice da utilizzare bastano pochi secondi e i valori aiutano il medico a fare una diagnosi tempestiva in questo modo aiutiamo il medico e il paziente con le vostre offerte avete aiutato e potete aiutare anche ad acquistare questi apparecchi devo portarvi un altro messaggio importante molti dei contagi che avvengono si possono evitare se si indossano correttamente mascherina e guanti e si mantengono le distanze di sicurezza nelle abitazioni è più difficile indossarli continuamente e mantenere le distanze mentre nel negozio all'eperto dovrebbe essere più semplice ci sono però molte persone che non usano correttamente questi dispositivi la mascherina chirurgica come quelle che abbiamo distribuito deve essere indossata coprendo il naso e la bocca se tutti la indossiamo bene protegge tutti anche se solo qualcuno la indossa male mette a rischio tutti se lasciate scoperto il naso non serve a niente è come non averla e si mette a rischio tutti coloro che sono intorno a noi ci sono persone che indossano indossano delle mascherine ffp2 di categoria superiore pensando di garantire ancora di più la sicurezza ne ho qui alcune queste hanno una valvola che somiglia a un grande bottone sulla mascherina si tratta di maschere particolari e devono essere usate con estrema attenzione questa mascherina con il bottone infatti mette a rischio tutte le persone che circondano chi la indossa si avete capito bene se al supermercato c'è una persona che indossa solo una mascherina con il bottone come questa rappresenta per voi un pericolo il motivo è semplice attraverso il bottone il respiro esce in maniera non filtrata ed escono quindi le gocce di saliva e di umidità che sono nel respiro e che trasportano il virus questa mascherina può andar bene se indossata correttamente e se mettiamo sopra una mascherina chirurgica la mascherina chirurgica infatti ha la capacità di fermare le gocce di umidità e quindi protegge tutti intorno a noi se tutti indossiamo la mascherina chirurgica tutti siamo protetti è importante che prendiamo sempre più confidenza con questi dispositivi perché ormai è chiaro che dovremo utilizzarli ancora a lungo vi saluto ricordandovi che domani il 25 aprile festa della liberazione alle 10 in diretta facebook faremo una benedizione deporremo una corona al monumento dei martiri vi mercatesi con una presenza strettamente limitata 75 anni fa la libertà di tutti costò sacrificio e la vita a molti adesso dobbiamo trarre la forza da quel momento per continuare a impegnarci per combattere questo virus con tutte le armi che abbiamo e continuare ad essere uniti e vincere tutti insieme grazie